siamo arrivati a sauris di sopra praticamente unici turisti qua della zona io con gli sci da fondo a cercare la pista qua sono bravissimi a scolpire il legno questo non so cosa sarebbe c'è anche un fungo porcino un fungo porcino di legno che bello e qui questo è uno scoiattolo che c'è anche in mano la noce è simpatico le case caratteristiche della carnia col terrazzo sopra tutte in legno questo portone mamma mia ancora come una volta eccole la giù in fondo nadie la zia